O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdono le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Misteri dolorosi Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto del Gezzemani. Dal Vangelo secondo Luca Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come cocce di sangue che cadono a terra. È duro sentirsi soli, soprattutto quando si porta il peso di tante difficoltà e di tanti problemi. Gesù li ha portati tutti con sé nel Gezzemani. Quando sei solo, quando senti che il peso ti toglie tutte le forze, ricorda che Egli è con te, che ha già portato prima di te il tuo peso, che anche Lui si è abbandonato alla volontà del Padre. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la Tua volontà. Stai accanto a Lui e non sentirti solo. Le gocce del suo sudore diventano sangue, saranno balsamo per le tue ferite. Preghiamo Gesù di portarci con sé nell'orto degli ulivi, per pregare con Lui, per accendere la luce della grazia in tutti i cuori che non conoscono Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero doloroso La flagellazione di Gesù alla colonna Dal Vangelo secondo Giovanni Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare Chiediamo a Gesù, dilaniato nel corpo dalla crudelissima flagellazione, di insegnarci a considerare il male fisico con luminoso sguardo di fede, Ed infondeci la forza necessaria per accettare la sofferenza con amore e sottomissione al volere del Padre Celeste. Ringraziamo con tutto il cuore Gesù per il suo corpo affagellato, per il suo sangue versato, per tutto il suo amore donato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero doloroso. Gesù è coronato di spine e condannato a morte. Dal Vangelo secondo Matteo I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, incinocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Sputandogli addosso, gli tossero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Ecco il nostro re, con la sua corona di spine, lunghe e pungenti, deriso, calunniato, insultato, percosso, umiliato. Quelle spine feriscono Gesù e lacerano il suo cuore a causa della nostra freddezza e della nostra mancanza d'amore. Guardiamo all'umiltà di Gesù, che si è lasciato incoronare con una corona di spine e cerchiamo, con le piccole e semplici azioni quotidiane, di alleggerire le sofferenze procurate da quelle spine. Aiutiamo Gesù donandogli piccoli gesti d'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, benché il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero doloroso, il viaggio di Gesù al Calvario. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù ha abbracciato la sua croce, portandola con amore. Quando rivolgiamo il nostro sguardo alla croce, guardiamo oltre il simbolo di quell'oggetto. pensiamo al puro ed infinito gesto d'amore che il Cristo ha avuto per noi, imprimendolo per sempre su quel semplicissimo simbolo di legno. preghiamo per tutti coloro che rifiutano la croce. Preghiamo affinché il Signore ci illumini e ci insegni a portare la croce come Lui, con dignità, con amore, con umiltà. Preghiamo affinché Gesù ci stia sempre accanto e ci aiuti a rialzarci dopo ogni nostra caduta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri libitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quinto mistero doloroso. La crocifissione e morte di Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto. E chi nato il capo consegnò lo spirito. Come possiamo pensare a Dio che muore? Secondo la nostra logica è impossibile. Ma lasciamoci illuminare dallo Spirito Santo e scopriamo la meravigliosa gara d'amore tra il Padre che dona il Figlio ed il Figlio che si dona al Padre per i Suoi figli. E proviamo, anche solo per un brevissimo istante, a pensare a Maria ai piedi della croce, ai piedi dell'amato Figlio morente, mentre accetta di diventare nostra madre. Pensiamo al suo cuore, stritolato dal dolore, e chiediamole di insegnarci ad amare. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve, a te ricorriamo, esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su, dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce, Vergine Maria. Litanie lauretane Signore pietà Cristo pietà Signore pietà Cristo ascoltaci Cristo esaudiscici Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi Santa Termità, unico Dio, abbi pietà di noi Santa Maria Prega per noi Santa Madre di Dio Prega per noi Santa Vergine delle Vergini Prega per noi Santa Sposa del Giusto Giuseppe Prega per noi Madre di Cristo Prega per noi Madre della Chiesa Prega per noi Madre della Divina Grazia Prega per noi Madre Purissima Prega per noi Madre Castissima Prega per noi Madre Sempre Vergine Prega per noi Madre Immacolata Prega per noi Madre degna d'amore Prega per noi Madre Ammirabile Prega per noi Madre del Buon Consiglio Prega per noi Madre del Creatore Prega per noi Madre del Salvatore Prega per noi Vergine Prudentissima Prega per noi Vergine degna di onore Prega per noi Vergine degna di lode Prega per noi Vergine potente Prega per noi Vergine clemente Prega per noi Vergine fedele Prega per noi Specchio di Perfezione Specchio di Perfezione Prega per noi Sede della Sapienza Prega per noi Fonte della nostra gioia Prega per noi Tempio dello Spirito Santo Prega per noi Tabernacolo dell'Eterna Gloria Prega per noi Splendente dimora di Dio Prega per noi Rosa Mistica Prega per noi Torre della Santa Città di Davide Prega per noi Fortezza inespugnabile Prega per noi Santuario della Divina Presenza Prega per noi Arca dell'Alleanza Prega per noi Porta del Cielo Prega per noi Stella del Mattino Prega per noi Salute degli Infermi Prega per noi Rifugio dei Peccatori Prega per noi Consolatrice degli Affritti Prega per noi Aiuto dei Cristiani Prega per noi Regina degli Angeli Prega per noi Regina dei Patriarchi Prega per noi Regina dei Profeti Prega per noi Prega per noi Regina degli Apostoli Prega per noi Regina dei Martiri Prega per noi Regina dei Confessori della Fede Prega per noi Regina delle Vergini Prega per noi Regina di tutti i Santi Prega per noi Regina concepita senza peccato originale Prega per noi Regina Assunta in Cielo e in Corpo ed Anima Prega per noi Regina del Santo Rosario Prega per noi Regina della Famiglia Prega per noi Regina della Pace Prega per noi Agnello di Dio Prega per noi Prega per noi O Dio Il Tuo unico Figlio Ci ha procurato i beni Della salvezza eterna Con la Sua vita Morte e risurrezione A noi Che con il Santo Rosario Della Beata Vergine Maria Abbiamo meditato questi misteri Concedi Di imitare ciò che essi contengono E di raggiungere ciò che essi promettono Per Cristo Nostro Signore Amen Preghiamo secondo le intenzioni Del Santo Padre Padre nostro Che sei nei Cieli Sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno Sia fatta la Tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi Il nostro pane quotidiano E rimetti a noi I nostri debiti Come noi Li rimettiamo Ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con Te Tu sei benedetta Tra le donne E benedetto il frutto Del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora Della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Com'era in principio Ora e sempre Nei secoli Dei secoli Amen Per i nostri defunti L'eterno riposo Dona loro Signore Esplenda ad essi La luce perpetua Riposo in pace Amen L'eterno riposo Dona loro Signore Esplenda ad essi La luce perpetua Riposo in pace Amen L'eterno riposo Dona loro Signore Esplenda ad essi La luce perpetua Riposo in pace Amen Sotto la Tua protezione Cerchiamo il Fugio Santa Madre di Dio Non disprezzare le suppliche Di noi che siamo nella prova Ma liberaci da ogni pericolo O Vergine gloriosa E benedetta Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Amen